ciao a tutti ragazzi bentornati qui con la nostra i6 mars e questo video dove a differenza degli altri video non è un gameplay ma è una piccola presentazione del mio safe game sì perché è finalmente ci ho lavorato un po avevo un po di tempo e finalmente è pronto che se volete potete andarlo a scaricare c'è tutto questo qui che vedete è il mio safe game vecchio di po quanto circa una settimana fa no dove ci sono ancora i campi qualche campo è ancora da raccogliere qualcuno è già stato seminato questi quadri possono stati seminati con l'erba quelli la sono già qualcuno è già stato raccolto comunque il raccolto ce l'avete ancora tutto dentro al silos di roba ce n'è avete 500 mila euro a disposizione ci sono tutte le produzioni che avevo io o che ho io fino ad oggi questo è il nostro depuratore bello pieno pieno ancora d'acqua e di tutto roba tutti i campi che ho io ci sono tutti dentro vedete un po è il mio safe game riferito a 34 giorni fa completo di tutto una cosa vi dico subito ci sono delle mod che dobbiamo scaricare dal dal mod hub però ci sono anche delle mod che sono dai siti esterni per le mod per dei siti esterni potete consultare la lista dei miei delle mie mod vi metto sotto in descrizione il link dove poterlo trovare ma comunque su discord c'è il link diretto se qualcuno di voi mi segue già su discord di sicuro avrà già visto il link che porta alla playlist per andare ad inserire la cosa basta solo andare a scaricare il file aprire il file zip prendere il safe game e andarlo a inserire quando l'ho andata a scaricare lo trovate con il numero 19 ho preso quello perché era quello più lontano possibile perché sul 20 c'è il mio safe game per le prove di tutte le mod che vengono fuori della north frisici mars e allora ho utilizzato il 19 non c'è perché non l'ho ancora non avevo ancora aggiornato l'ultima dove mi sono infognato qui l'ultimo aggiornamento perché quella parte che riguarda qui il porticciolo dove c'è il coso per comprare la i cereali questo ancora non c'è ma non ci vuole tanto al giornale ho fatto anche il video come si fa ad aggiornarlo basta andare a scaricare la versione 4 prima installate la versione 4 della mappa mi sembra che 3,5 3,4 se non sbaglio mod e produzioni e dopo andate a fare la modifica che vi avevo fatto vedere in un video come andarla a fare ok ci sono anche i capannoni qui dove andare a mettere tutti i nostri prodotti non ci sono tutti ma il mio safe game è così ci sono dentro il cambio nei trattori le mie di trebbie c'è tutto non ho spostato niente è l'unica cosa che ho sistemato così dovevo sistemarlo per me l'ho sistemato anche per voi così almeno è più ordinato tutti i percorsi autodrive gli ho dato un'occhiata troverete anche l'esposizione dei mezzi che adesso questa è cambiata perché nella nuova mappa che ho io c'è la nuova versione della disposizione dei mezzi anche su quello faremo un video vediamo un po quando esce in questi giorni non durerà tanto il video è pronto che vi stavo dicendo ah sì allora tutti i mezzi ve li ho parcheggiati qui tutti i mezzi hanno un parcheggio assegnato come al solito i parcheggi assegnati sono solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rimorchi perché io faccio in questo modo vedete che qui avete tutti i rimorchi trattori qua ci sono i rimorchi quelli con anche i caricatori e tutto il resto poi di qua abbiamo le più troppo veloce di qua abbiamo le mie di trebbie ok meti trebbie raccoglitrici c'è anche il coso per gli animali e adesso vi faccio vedere anche come ho aggiornato i percorsi così qua ci sono le mie di trebbie trovate già all'interno il coso nuovo che è ancora probabilmente in puntata non avete visto ma è quello nuovo che è un serbatoio che si attacca davanti al trattore per la seminatrice che l'ultima volta lo scavolato fatto una cazzata ho comprato una cosa sbagliata qua ci sono le imballatrici un po di mezzi li ho pulito un po sono ancora sporchi ma questo potete farlo anche voi allora andiamo a vedere i mezzi noi mezzi i percorsi soprattutto cui perché qua come potete vedere adesso nel momento in cui vada a chiudere in predefinito non c'è più niente ragazzi l'ho sistemato tutto e funziona tutto benissimo nessuno non dovrebbero non ci dovrebbe essere problemi per quanto riguarda questa roba qui niente ragazzi me l'avevano chiesto me l'hanno chiesto sono già un paio di ragazzi il problema è che me loro me l'hanno chiesto tanto tempo fa io per motivi di tempo anche perché non vi posso dare un prodotto non posso tirar via un prodotto che era un non mi piaceva tirare fuori un prodotto che era troppo incasinato allora prima ci ho voluto lavorare un po l'ho sistemato come sono tutta posti tutti i mezzi tutti i percorsi compagli vari adesso è funzionante i campi perché non riesco ad andare su questo si vede che qua i campi sono tutti belli ancora pronti quelli che avevo raccolto tipo come questo è finito di raccogliere quello che avevo iniziato io qualche puntata invece il 12 è tutto da raccogliere l'ho rimesso a posto è tutto da raccogliere questo qua poi c'è il campo 13 qua c'è un altro coso dei pari polli c'è il macello c'è tutto ragazzi per chi ha visto una di queste dei miei video sa tutto quello che c'è su questa mappa qua è quello che ancora possiamo andare a mettere ma va bene così dai io direi che ho detto tutto quello che bisognava dire se avete delle domande in merito fatemeli sotto in descrizione o venitemi a trovare su discord magari possiamo condividere anche qualche immagine qualcosa se avete bisogno di un input o anche magari qualche collegamento a una mod dovesse mancare fatemelo sapere che in un modo o nell'altro proviamo a trovare il link dove andarla a scaricare poi ragazzi direi che è tutto buon divertimento scaricata lo fatemi sapere cosa ne pensate magari giocandoci la cosa è diversa un salutone ciao grazie a tutti